Benvenuti su ClaudioMasci.com Proseguiamo la serie di video sulle migliori app per con le migliori app per gli ebook quindi per leggere, organizzare e convertire gli ebook Prima di cominciare ricordo come sempre che troverete tutti i link per scaricarli sul mio sito web quindi se state guardando il video da youtube andate in descrizione, troverete il link all'articolo e lì troverete il link diretto allo store per scaricare le varie app quindi non c'è bisogno di andarle a cercare manualmente le potete scaricare direttamente dal link Come sempre ho cercato di trovare la stessa app sia per android che per ios ma in questo caso a parte una non è stato possibile quindi ho consigliato le migliori alternative per le diverse app Iniziamo con le app per la lettura degli ebook Il mio consiglio, quindi l'app principale che vi consiglio si chiama ebooks e personalmente tra le varie app di lettura è quella che trovo migliore vi permette di leggere tantissimi formati di ebook ed è disponibile sia per android che per ios quindi la trovate anche su iphone e ipad Andiamo avanti con delle alternative a quest'app quindi nel caso in cui non dovesse piacervi ebooks abbiamo due alternative valide per android mentre ne ho trovata una sola per ios per quanto riguarda android abbiamo red era che è un'altra valida alternativa a ebooks e moon plus reader in questo caso c'è anche la versione pro a pagamento credo che la versione gratuita aggiunga delle pubblicità comunque non ci ho fatto caso perché l'ho testata rapidamente quindi nel mio caso non ho visualizzato pubblicità però essendoci la versione pro molto probabilmente ci sono e sono entrambe ben realizzate e permettono di aprire davvero tantissimi formati quindi nel caso in cui una di quelle che avete selezionato non vi permetta di vedere il formato che avete selezionato il formato che avete scaricato di ebook potete provare un'altra delle altre app mentre per quanto riguarda ios la migliore alternativa ad ebooks penso che sia ti reader quindi nel caso in cui non vi dovesse piacere ebooks potete provare quest'altra app tutte queste app vi permettono anche ovviamente di catalogare i vostri ebook quindi potete raggrupparli e trovarli facilmente nell'elenco all'interno dell'app ma se volete ad esempio catalogare dei libri in formato cartaceo queste app ovviamente non sono adatte quindi andiamo a vedere un'app per android e una per ios che vi permetta di catalogare e organizzare la vostra collezione di libri per quanto riguarda android una delle migliori scelte è mylibrary che vi permette di inserire o il numero isbn o il nome del libro per poterlo, il titolo del libro ovviamente per poterlo andare a catalogare proseguiamo ora con l'alternativa per ios in questo caso ho scelto l'app bookbuddy è una valida alternativa a mylibrary molto valida quindi per catalogare i vostri libri andiamo ora invece a vedere i migliori convertitori di ebook sia per android che per ios anche in questo caso sono due app diverse per quanto riguarda android la scelta è ebook converter che una volta installata credo che venga rinominata in immagini conversione comunque è un nome che fa pensare più alla conversione di immagini più che a quella di ebook ma comunque vi permette di convertire anche gli ebook una volta inserito il documento che volete convertire potete scegliere in quale cartella andarlo a convertire e in quale formato la conversione è rapidissima quindi potete tranquillamente riuscire a convertire un ebook da un formato all'altro supporta tantissimi formati quindi se quello che desiderate non è supportato dalla vostra app potete tranquillamente utilizzare quest'app per convertirlo l'alternativa per ios è il convertitore di ebook anche in questo caso supporta tantissimi formati ovviamente i più utilizzati potete utilizzarlo ovviamente per convertire anche in questo caso i vostri ebook da un formato all'altro un ultimo particolare riguardo a Moonplus mi sembra che le altre app non lo permettano comunque non ci ho fatto tanta attenzione ma Moonplus permette anche di leggervi il testo dell'ebook quindi se non volete leggerlo voi a un lettore automatico che tradurrà in vocale quindi con la voce andrà a leggervi il contenuto del testo è un'opzione attivabile nelle impostazioni mi sembra che su ebooks e su RedDirect e Reader mi sembra di non aver visto questa impostazione comunque potrei aver sbagliato perché come detto non è un'opzione che ho cercato in questo caso mi è capitato di vederla e quindi ho pensato che potrebbe essere utile dirvelo nel caso in cui cerchiate un ebook reader che vi permette anche di ascoltare il testo invece che leggerlo questo è tutto per quanto riguarda i miei consigli sulle migliori app legate agli ebook fatemi sapere anche voi se conoscete delle alternative valide se secondo voi manca un'app utile in questo ambito scrivetemelo nei commenti sia su YouTube sia sul mio sito web vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao